Venerdì 2 dicembre a Potenza, l'ultimo dei tre appuntamenti culturali che si sono svolti in Basilicata per il sessantesimo anniversario della Banca Montepruno. Anche questa volta il Teatro Stabile ospiterà l'evento di spettacolo con la presenza del comico Lino Paradiso in Ma io sono Lucano. E sarà anche un evento di solidarietà. I tre eventi organizzati dall'Istituto di Credito con al fianco l'Associazione Sinergie Lucane prevede infatti ad ogni appuntamento ospiti di eccezione all'insegna del divertimento e soprattutto della beneficenza. In ogni serata c'è la raccolta fondi a favore di enti, associazioni, soggetti che operano nel sociale per dare un sostegno ai più bisognosi in un momento così delicato e particolare. Venerdì la Banca Montepruno concluderà nella città lucana gli eventi che hanno visto gli spettacoli di Gianluco Sfiammat, del duo Enzo De Caro e Antonio Norato, ora tocca a Dino Paradiso e come avvenuto per i precedenti appuntamenti anche la serata del 2 dicembre avrà una matrice benefica. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti a disposizione e prevede una semplice e libera offerta a scopo benefico. Per tutte le informazioni è possibile contattare l'Associazione Sinergie Lucane. I soci e i clienti di Potenza potranno rivolgersi alla sede di staccata di Corso Garibaldi della Banca Montepruno per prenotare l'ingresso gratuito. Questi tre appuntamenti a Potenza, ha commentato il direttore generale Michele Albanese, nascono sotto il preciso scopo fare del bene attraverso la cultura con personaggi importanti e molto famosi. È nello spirito della nostra BCC da ben 60 anni, dice Albanese, operare in questo modo, promuovendo l'arte, incentivandolo a stare insieme, dando concreto sostegno a chi ne ha bisogno.